Cominciamo appunto dall'inizio di questa vicenda, una tra le pagine più complicate, oscure, drammatiche della nostra storia, della nostra Repubblica. Questa sera ne parleremo con Francesco Magni, che è uno degli autori di Qui si fa l'Italia, in particolare hai seguito molto da vicino questa puntata, la puntata su Aldo Moro. Insomma, che cosa accade? Verso le 10 del mattino di giovedì, 16 marzo 1978, le trasmissioni televisive vengono interrotte, all'epoca c'erano due canali e soltanto da due anni c'era il secondo canale, prima ce n'era soltanto uno, verso le 10 gli italiani scoprono, molti italiani scoprono quello che era accaduto dalle parole di un giornalista che diciamo ha avuto una carriera piuttosto lunga e che è tuttora uno dei volti della televisione di Stato. Buongiorno, il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un commando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo, Andreotti. È abbastanza impressionante quello che diciamo tutte le volte, non ci sono i social, come fanno a viaggiare le notizie, però qui il rapimento di Aldo Moro è successo da circa un'ora e la notizia arriva molto molto velocemente in tutta Italia. Il rapimento è successo, lo dicevamo, nella zona nord, come vedete c'è già un inviato del Tg1 con un sacco di altri giornalisti oltre a forze dell'ordine e curiosi. È un attentato ben architettato e ben progettato, l'hanno fatto in pieno giorno, sono le 9 del mattino di un giovedì mattina, abbastanza importante per Roma perché, l'abbiamo detto, si stava per insediare un nuovo governo e lo fanno al punto che ci sono tantissimi testimoni. In questo video si vede proprio il giornalista che a un certo punto comincia a intervistare delle persone e diceva, tu cosa hai visto? Ma io ho visto questo, io ho visto quell'altro. Diciamo, il giornalista è Paolo Freiese, che era uno dei più noti giornalisti della RAI, che poi è morto prematuramente in realtà, mi pare, nell'inizio degli anni 2000, insomma, circa una ventina di anni fa. E ti interrompevo perché questo servizio, come potete vedere, è montato anche molto male, no? Nel senso che è stato sostanzialmente girato e montato alla belle meglio praticamente in diretta, mentre poi Freiese tornava in redazione. Anche perché una volta, questo ve lo possono raccontare i giornalisti che facevano questo mestiere qualche decennio fa. Una volta non è che potevi inviare i servizi via internet, dovevi fisicamente andare con le cassette. Quindi questo qui è un pezzo abbastanza memorabile, no? Di televisione per questo motivo. La dinamica è particolare ed è ben architettata. L'hanno organizzato molto bene, dopo vedremo chi l'ha fatto. Ma si vede bene nella fotografia, quella più famosa, dove Via Fani è presa dall'alto. Il primo progetto, diciamo così, di rapimento di Moro non doveva essere in Via Fani. Doveva essere in una chiesa. Moro tutte le mattine era molto abitudinario. Tutte le mattine andava a pregare nella chiesa di Santa Chiara, in piazza Giochi Delfici, zona Camilluccia. L'idea era di rapirlo lì, ma poi avevano capito che avrebbero dovuto fare troppi morti, ci sarebbe stato troppo spargimento di sangue. E allora lui aveva appena finito di andare a pregare in chiesa Santa Chiara. Ecco che arriva. Qui Via Fani va leggermente in discesa a questo punto. La macchina davanti, qui sono tutti numeri, 127, 128, 130. Non mi chiedete perché non mi ricordo i modelli di macchine, ne so veramente poco. Però la prima macchina è quella dei terroristi. Quando sono all'angolo, tra Via Fani e Via Stresa, la macchina comincia a andare in retromarcia, forse annatamente. L'agente di scorta è preso di sorpresa e viene tamponato dall'altra macchina di scorta, dall'altra l'alfa blindata della scorta di Moro. A questo punto, qui, dove vedete i bossoli, qua in basso, da questa via qui arriva un'altra macchina, si affianca alle tre, cominciano a sparare. Sono molto molto precisi, perché tutti gli uomini di scorta muoiono. Quattro qui, uno viene ferito e morirà poco dopo. E quindi arriviamo a cinque morti della scorta, mentre invece Moro è praticamente illeso. Viene caricato sul bagagliaio e viene portato via. C'è un cambio di macchina e da lì si perdono le tracce. Bruno Vespa, ancora un anno dopo, dirà che non si sa dove l'abbiano portato. Non si riesce a capire in quel momento lì. Sì, diciamo che questo è l'angolo tra via Mario Fani e via Stresa. I terroristi spuntano in realtà proprio dalla parte bassa di questa immagine. C'era una siepe, dietro alla siepe c'era un bar che si chiamava Olivetti. Oggi c'è tuttora un locale, non è più un bar, una pizzeria, se non sbaglio un ristorante, appunto all'angolo tra via Fani e via Stresa. Lì ci sono queste persone che escono tra l'altro vestite a quanto pare da avieri, tant'è che nel video di Paolo Fraiese che abbiamo intervisto prima, a un certo punto c'è un berretto da aviatore e Paolo Fraiese dice no ma questo non è dell'Alitalia. Insomma c'è una piccola... Non c'è i gradi, non può essere dell'Alitalia. C'è un piccolo dibattito su a chi possa appartenere quel cappello. E diciamo inizia appunto alle 9 del mattino di giovedì 16 marzo 1978 una vicenda che poi durerà molto, durerà 55 giorni come sapete e arriverà poi al 9 maggio quando il corpo di Aldo Moro sarà ritrovato. Qui chiederei a Francesco Magni che insomma ha studiato molto le tante verità, perché dico tante verità, perché lo dice anche Marco Damilano nella puntata di cui si fa l'Italia e l'ospite di questa puntata, insomma non è che non sappiamo niente, sappiamo molto di quello che è accaduto però forse non sappiamo tutto. E quando dico molte verità diciamo è certo che quello di cui stiamo parlando sia avvenuto qui, è certo che sia avvenuto il 16 marzo, che siano state uccise 5 persone, i 5 agenti della scorta, però ci sono versioni leggermente divergenti su alcuni dettagli, che forse dettagli non sono. Ci dici quali sono i punti un po' critici della ricostruzione di questo momento, quindi dell'attentato di Viafani? Buonasera, grazie anche da parte mia dell'invito al circolo e di a voi di essere qui. Ci sarebbe già qui una infinità di cose da dire. Su questa vicenda, su quei tre minuti e in realtà anche su quello che è successo leggermente prima, sul furgone del famoso fioraio, si sono spesi processi, quindi la magistratura inquirente e giudicante, più commissioni d'inchiesta, due specificamente su questo, la commissione stragi, da ultima la commissione antimafia che nel 2022 ha concluso i suoi lavori e si è occupata anche di questo, perché l'interrogativo di fondo è come è possibile che dei, passatemi il termine, ragazzotti, sicuramente molto nella loro tragicità, diciamo appassionati a quello che facevano, ma siano stati in grado con armi vecchie che per loro stessa affermazione si sono inceppate durante questa operazione, siano riusciti a compiere un'operazione di questo livello di precisione militare. E qui quindi iniziano varie teorie sul numero di persone presenti, su cui gli stessi brigatisti non si sono mai definitivamente messi d'accordo, sulla possibile presenza di agenti, chiamiamoli esterni, sin dal giorno successivo alcuni giornali riportavano testimonianze di persone che avevano distintamente ascoltato frasi in lingua tedesca, questo aveva immediatamente fatto pensare a persone afferenti alla RAF, quindi alla organizzazione, chiamiamola gemella, che c'era allora in Germania e che pochi mesi prima aveva rapito il capo della Confindustria tedesca con modalità inverosimilmente analoghe a queste. Recentemente, e la commissione Moro II se ne è occupata molto approfonditamente, ne ha parlato ieri sera nello speciale della Sette anche il magistrato Donadio che ne faceva parte come consulente, si è occupata anche dei rapporti tra le Brigate Rosse e alcune organizzazioni della criminalità organizzata, in modo particolare perché alcune foto sembrano posizionare sulla scena di Via Fani due soggetti vicini all'Andrangheta, uno, Nirta, appartenente a una famiglia, a un'Andrina, e un altro, Giustino Lovono, che secondo alcuni è stato anche l'esecutore materiale, 55 giorni dopo, ex militante della regione straniera, e successi inserito dal Viminale nella lista dei terroristi da ricercare, quindi già in odore di vicinanza con le BR. Diciamo che non è semplice ricostruire in ogni suo dettaglio la verità storica perché ci sono stati tanti passaggi, ci sono state tante inchieste anche che si sono occupate di questo, ci sono, se non sbaglio, cinque processi, ci sono tre o quattro a questo punto commissioni parlamentari che hanno in varia forma toccato il tema. Fai cinque perché c'è anche la Mitrokin che se ne è occupata. Cinque, e quindi ci sono anche ad esempio palesi contraddizioni, nella puntata del podcast raccontiamo ad esempio raccontiamo di una testimonianza che è stata accolta di fatto nella sentenza passata in giudicato, perché dobbiamo pensare che noi adesso lo visualizziamo, questo angolo come un luogo che sta quasi in un altro pianeta, c'è un luogo della storia per noi, ma era fino alle 8.59 di quel mattino un luogo di vita, di passaggio normale, e non erano le tre di notte, erano le nove del mattino. Quindi c'erano molte persone intorno a questo incrocio e quello che vi dicevo è che ad esempio una testimonianza di una persona che era all'incrocio in Motorino è stata in realtà accolta sostanzialmente dal processo. Questa persona tra l'altro, a questa persona è stato sparato contro e i brigatesti sono stati infatti incriminati anche per il tentato omicidio di questo testimone. Questo testimone dice che c'era una famosa moto sulla scena, una moto Honda, che però i terroristi negano che ci fosse. Insomma ci sono tante incoerenze che non hanno a che fare con la dinamica macroscopica dei fatti, che è sostanzialmente quella che abbiamo detto, ma che chiamano in causa una serie di dettagli, chiamiamoli così. E poi ci sono alcuni intrecci incredibili in questa storia, a partire dal fatto che proprio in quei pochi metri c'erano almeno due personalità significative per motivi diversi che assistono al rapimento di Aldo Moro. Uno è Pino Rauti, che è parlamentare del Movimento Sociale Italiano, sarebbe dovuto andare a votare anche lui la fiducia al governo Andrò. O meglio non votarla, a votare contro la fiducia. Siamo d'accordo. Era lì, sente distintamente gli spari, era sul balcone, racconta di aver sentito perfettamente cosa è successo. Un altro è Francesco Pannofino, che conosciamo come René Ferretti e come doppiatore di George Clooney o di Hagrid, ad esempio. Lui era alla fermata a 20 metri dal luogo della... Mi pare in Via Stresa, cioè lì a destra dove vedete quel gruppo di persone, c'era un'edicola e lui ha raccontato più volte che abitava in Via Fani, si trovava lì per comprare il giornale, andando all'università, ed è stato testimone oculare della Vicella. Quindi ci sono davvero tantissimi intrecci, anche quasi, come possono dire, curiosi, come quello appunto che riguarda una personalità poi del cinema e dello spettacolo come Pannofino. Ecco, qui, diciamo, ha inizio poi da questo rapimento la vicenda di 55 giorni, però noi vogliamo fare un passo indietro. Vogliamo fare un passo indietro perché finora non vi abbiamo detto quasi nulla su che cos'erano le Brigate Rosse, no? Vi abbiamo portato nel cuore dell'azione, in questo dramma, in questo eccidio che costa la vita a cinque persone e che porta al rapimento forse del politico più influente, non solo di quel momento, ma dei 15 anni che portano al 1978. e però dobbiamo dire qualcosa su che cosa sono le Brigate Rosse. Lo facciamo, diciamo, cominciando da una lettura di nuovo. Nel 1970, in una cascina di Pecorile, un paesino in Emilia-Romagna, un gruppo di ragazzi e ragazze che non si riconoscono nella sinistra e nel sindacato istituzionali, decide che le manifestazioni e i cortei non bastano più, che è il momento di passare alla lotta armata. Decidono di dedicare la loro vita alla guerra rivoluzionaria per il comunismo. Tra loro c'è chi abbandona tutto, lavoro, famiglia, amici, e fa perdere le tracce. Va, si diceva allora, in clandestinità. Nascono così, in quella cascina, nel 1970, le Brigate Rosse. Francesco, la storia delle Brigate Rosse è la storia di una delle organizzazioni che in quegli anni insanguinano il paese. Ci racconti, insomma, come sono nate, che caratteristiche avevano. Peraltro, la loro storia è tristemente legata a quella della nostra città, come vedremo, no? Però una cosa che dobbiamo anche dire forse per dare un contesto è che siamo negli anni 70. Gli anni 70 iniziano sostanzialmente con un momento di grande contestazione e mobilitazione che è quello del 68-69, in cui studenti, operai, promuovono, come sapete, rivendicazioni importanti sia sull'insegnamento sia sulla qualità del lavoro. E questo, se vogliamo, è un primo momento di spaccatura, ecco, tra partiti, società civile, mondo del lavoro, che poi assume, ovviamente, senza nessuna continuità diretta tra questi fenomeni, assume nel corso degli anni 70 il colore del terrorismo e della lotta armata. Dici di più sulle Brigate Rosse? Così? Vai. Qui c'è sempre la questione di quante ore avete di tempo. Ok, poca. Allora, io inizierei da un concetto forse banale, ma credo importante. Le Brigate Rosse sono un fenomeno essenzialmente e tipicamente italiano. Prima dicevamo della RAF, ovviamente ci sono state altre organizzazioni di stampo terroristico in Europa per altre ragioni, Lira, Leta e così via, ma quello che accade in Italia nella dimensione degli appartenenti in generale al cosiddetto partito armato che aveva nelle Brigate Rosse l'organizzazione più significativa, più nota, con più militanti, ma non era l'unica. Ovviamente c'era prima linea e ce ne sono state tantissime altre nell'ordine di centinaia di sigle. Tutto questo affonda le sue radici in quelle trasformazioni socio-economiche che ci sono state negli anni Sessanta, di cui abbiamo parlato in altre due puntate della seconda stagione e che hanno portato ad esempio questa città ad essere la terza città del meridione d'Italia per popolazione ovviamente dopo Napoli e Palermo. Già dall'estate Sessanta da quella contestazione dei ragazzi con le magliette e righe le organizzazioni tradizionali, i partiti, il partito comunista in modo particolare ma insomma diciamo in generale i partiti e i sindacati avevano iniziato a non essere più gli unici depositari dell'istanza politica i meccanismi della rappresentanza ancora funzionavano ma da quel momento accade qualcosa e questo qualcosa porta a seconda anche delle zone d'Italia della distribuzione del tessuto industriale e quindi della tipologia di persone che abitavano le città e i cittadini e i paesini del nostro paese a fare delle riflessioni qualcuno in modo particolare questo è un fenomeno molto interessante nella zona reggiana di Reggio Emilia veniva dalle file del partito comunista una parte significativa del nucleo storico Alberto Franceschini Prospero Gallinari Roberto Ogni Bene Tonino Paroli frequentava quelle sezioni e lì c'è anche proprio una specificità legata ai fatti di Reggio Emilia al cosiddetto mito della resistenza tradita e poi ci sono altri movimenti a Trento nella facoltà di sociologia una coppia di cattolici praticanti Renato Curcio e Margherita Cagol che si sposano il giorno dopo la discussione della tesi e quel giorno poi vanno a Milano a una riunione del cosiddetto CPM del collettivo politico metropolitano che riuniva studenti operai sull'onda lunga di quell'anno diciamo di quel biennio 68-69 quindi esplosione della contestazione studentesca in Italia così come a livello diciamo europeo se non addirittura globale considerando gli Stati Uniti e l'autunno caldo il 12 dicembre ovviamente c'è stata Piazza Fontana quindi un po' la perdita dell'innocenza l'impressione in quelle menti che non avevano fatto la resistenza perché erano troppo giovani e non conoscevano il valore e l'importanza dello Stato democratico che lo Stato che loro erano tenuti a rispettare che i partiti sindacati e le istituzioni gli dicevano di rispettare era in realtà portatore di morte distruzione non era quella la repubblica che i partigiani sognavano e quindi qui si uniscono una serie di diverse culture il movimento dei collettivi sociologia il gruppo dell'appartamento di Reggio Emilia come si chiamavano i fuori usciti dalla FIGC si riuniscono in questa zona diciamo poi qualcuno la identifico in Pecorile qualcuno in Costa Ferrata comunque diciamo in questa cascina delle campagne reggiane discutono il passaggio alla lotta armata e da lì nascerà prima sinistra rivoluzionaria e poi le Brigate Rosse con una diciamo coda che faceva capo a un ex militante socialista un personaggio diciamo un po' particolare che si chiamava Corrado Simeoni che in realtà poi fonderà il super clan avrà dei contatti molto forti con Parigi ecco le Brigate Rosse nascono così principalmente nelle città del centro nord mentre invece credo che lo vedremo dopo la storia della colonna romana è molto diversa decisamente sì e diciamo le Brigate Rosse all'epoca erano un'organizzazione in cui c'erano persone anche molto giovani come abbiamo detto con estrazione diversa e in una prima fase diciamo fanno insomma piccoli tra mille virgolette sabotaggi che poi diventano agguati che poi diventano in una sorta di crescendo drammatico quello che abbiamo visto il 16 marzo 1978 ma uccidono prima del 1978 carabinieri poliziotti magistrati giornalisti insomma passano sostanzialmente il 1974 un po' l'anno di svolta passano a un'azione molto violenta anche diretta contro personalità dello Stato naturalmente il 16 marzo 1978 è però il punto più alto di questo loro attacco e tra l'altro diciamo prima della storia di questa città e di come si intreccia al dramma del terrorismo rosso in questo caso perché lo raccontiamo nella puntata per capire che aria c'era cosa voleva dire vivere in Italia nel 1976 77 78 il processo di Torino il processo ai capi storici cosiddetti delle Brigate Rosse qui vediamo 1974 l'arresto di Renato Curcio che poi è una delle persone coinvolte arresto di cui fu protagonista il generale dalla chiesa insomma il suo nucleo antiterrorismo dicevo per capire che cosa era anche qual era la posta in gioco nel 1976 77 78 in Italia possiamo venire qui a Torino e vedere che cosa accade al processo a diciamo il nucleo dei capi iniziale delle Brigate Rosse li citiamo nel podcast ci sono due esempi emblematici di quello che succede qui a Torino il primo è che le Brigate Rosse non riconoscendo lo Stato non riconoscono le sue istituzioni e quindi sostanzialmente non si vogliono far processare e non accettano la difesa a un certo punto Fulvio Croce il presidente dell'ordine degli avvocati di Torino accetta la difesa d'ufficio dei brigatisti del nucleo storico di Renato Curcio di Franceschini tra l'altro Renato Curcio catturato in un'operazione strepitosa dal nucleo speciale antiterrorismo senza sparare neanche un colpo al passaggio a livello nelle campagne di Torino di Pinerolo tanto chi ha visto la fiction su Carlo Alberto dalla Chiesa recentemente trasmessa dalla Rai ricorderà questa scena dicevamo però Fulvio Croce accetta questa difesa dice ok va bene prendiamo la difesa dei brigatisti e facciamo partire finalmente questo processo solo che quando esce la notizia che Croce ha accettato la difesa viene ucciso con cinque colpi di pistola qui nel centro di Torino pochi passi da qui vicino via Cernaia tuttora lo dico perché siamo qui se passate da via Perrone se non sbaglio in via Perrone che si trova allo studio c'è una targa che commemora quel quel momento terribile tra l'altro Fulvio Croce era un signore di 75 anni molto stimato in città era stato partigiano liberale così come diciamo dall'antifascismo liberale veniva faccio un altro nome Carlo Casalegno che nel 1977 quindi l'anno dopo viene anch'esso qui a Torino assassinato dalle Brigate Rosse quindi c'è anche questa questa follia nella follia del colpire persone che avevano davvero sconfitto il fascismo nel nome di una resistenza tradita questa era la diciamo la distorsione totale nella quale cadeva l'estremismo di sinistra in quella fase e poi quello è un processo con corte d'assise quindi c'è una giuria popolare il problema è che il tribunale di Torino si riempie di certificati medici sindrome depressiva c'era scritto nessuno accetta di far parte della giuria popolare soprattutto dopo che aver visto quello che è successo a Croce questo è quello che avvocato è l'urlo che sente Croce prima di ricevere cinque colpi di pistola la schiena sotto il suo studio ma dicevamo non si riescono a trovare sei persone che entrino in giuria e facciano partire finalmente questo processo al nucleo storico c'è un personaggio una donna incredibile del partito radicale che ha combattuto tante battaglie lei stessa lo dice io anch'io non mi riconosco in questo stato e in questo in questo stato questo regime dice perché i radicali come sapete avevano tutta una retorica contro il regime dei partiti però la legalità dobbiamo dobbiamo portarla avanti e in questo lei accetta ed è la prima ad accettare di entrare nella giuria popolare da lì poi si inizierà questa foto tra l'altro è bellissima sono quattro uomini che la guardano passare lei con questo sguardo così fiero che entra in tribunale il processo al nucleo storico di Torino guarda un po' parte qualche giorno dopo una manciata di giorni prima del 16 marzo 1978 quindi la cattura di Curcio nel 74 nel 76 si inizia dovrebbe iniziare il processo ma all'atto pratico inizierà solo il 9 marzo siamo lì attorno del 1978 proprio perché c'erano queste questo clima di terrore c'era questa paura serpeggiante nel in Italia e dappertutto e poi che cosa succede succede diciamo che si arriva ai passaggi che portano dal 16 marzo 1978 succede che le BR alzano ancora di più il tiro non basta più colpire sindacalisti avvocati giornalisti magistrati serve arrivare al nucleo del potere attaccare al cuore dello Stato attaccare quel potere che qui a Torino li ha messi sotto processo a progettare il colpo ai vertici dello Stato è il gruppo di brigattisti che si è stabilito a Roma la capitale non una città ricca di fabbriche come quelle dove le brigate rosse erano più forti Torino Milano Genova la città del potere politico il capo della colonna romana non sezione come un partito colonna come un esercito si chiama Mario Moretti è nato ad Ascoli ma ha vissuto a lungo a Milano ed è a Milano che ha prodato alla lotta armata Mario Moretti è uno dei pochi a sfuggire agli arresti che portano al processo di Torino di cui parlavamo poco fa è su di lui che si ricostruiscono le brigate rosse è lui il nuovo capo del gruppo armato comunista Mario Moretti è la mente dell'attacco al cuore dello Stato è la mente del rapimento di Aldo Moro e qui lo vediamo Mario Moretti che è appunto direi tragico protagonista della storia che raccontiamo questa sera che ha inizio quel 16 marzo e che poi però dura quasi due mesi il rapimento Moro 55 giorni nei quali cosa succede 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 di tutto succede che la politica si spezza in due ma è importante adesso ci siamo addentrati c'è stato il rapimento adesso i terroristi i brigatisti portano Aldo Moro in un appartamento questa è la prima fotografia che viene divulgata perché i brigatisti parlano i brigatisti comunicano abbiamo detto alle 10 del mattino hanno già telefonato e hanno rivendicato il rapimento ma poi cominciano a pubblicare continuamente a mandare dei dispacci dei comunicati che stampano in una stamperia di Roma dopo vedremo la cartina di questa storia perché è molto interessante capire anche la geografia di Roma questa storia si dipana tutta nella capitale e però sembra un universo quei 55 giorni sono il centro del mondo eccola qua lassù via Fani Roma Nord lo dicevamo dove è avvenuto il rapimento qui tutto in basso via Montalcini 8 e dove viene portato Aldo Moro e quella fotografia lì che avete visto prima viene scattata in quell'appartamento dopo vedremo quali sono gli altri luoghi di questa storia vedete però via Piafoa 31 dove c'era la tipografia utilizzata dai brigatisti perché i brigatisti dicevamo mandano dei comunicati come li mandano anche qui è interessante li mettono il primo sono nove comunicati più uno falso il primo lo mettono sopra una macchina delle fototessere poi chiamano chiamano di solito quasi sempre due giornali il messaggero e la repubblica e dicono dove trovarli questi comunicati nel primo datato proprio mi sembra pochissimi giorni dopo addirittura lo stesso giorno il 16 marzo condannano Aldo Moro già da subito dicono che è l'emblema del regime e sostanzialmente lo condannano già a morte ma lì però che sia un bluff o no la politica si spacca in due no c'è una una linea che vuole trattare esigua è una linea della fermezza a rappresentare una di queste due linee c'è il segretario della CGL Luciano Lama che tenete presente di nuovo come viaggia questa notizia le 9 viene il rapimento le 10 si è la notizia alle 11 scatta uno sciopero generale degli operai nelle fabbriche nel pomeriggio in piazza San Giovanni c'è una manifestazione enorme di solidarietà adesso vediamo un estratto di quel momento e le parole di Luciano Lama che rappresentava diciamo la CGL e se vogliamo l'area del Partito Comunista in sostanza però prima c'è stata fatta notare una cosa effettivamente e si è intrecciata anche a racconti che ho sentito in famiglia insomma chi di voi c'era e ha ricordi di quel 16 marzo 1978 qualcuno di voi sì qualcuno di voi sì sulle mani sulle mani sulle mani quanti di voi erano a scuola tutti quanti di voi ricordano che le lezioni siano state interrotte prima del tempo diversi tra voi qualcuno ha finito la versione ok questa è una cosa che appunto mio padre mi ha raccontato un sacco di volte ma ritorna e effettivamente prima una persona ci chiedeva ma chi l'ha deciso come è stato comunicato perché è stato deciso e devo dire che qui andrebbe fatto un approfondimento sul come sia avvenuto questo passaggio apparentemente minore che però molti di voi che c'erano insomma ricordano sta di fatto che insomma quel giorno lezioni interrotte o no magari non in tutta Italia non in tutte le scuole non lo so si attiva subito una grande mobilitazione e qui vediamo sentiamo le parole che sono le parole della fermezza esatto sono le parole della fermezza però prima di vorrei solo fare un punto importante perché è importante apprezzarlo me l'ha fatto notare giustamente Francesco oggi mentre viaggiavamo insieme questa storia qui il rapimento di Aldo Moro è veramente un unicum nella storia nella storia umana esatto più o meno umana non mi spingerei ecco però ragiona ragiona su un fatto quanti chiamiamoli insomma al lato senso reggicidi ci sono stati nella storia dell'uomo una marea una marea tanti da Giulio Cesare a Kennedy passando per Lincoln i re decapitati Carlo I Stuart eccetera Mussolini Umberto I anche in Italia quanti rapimenti di capi di stato di governo o insomma personaggi particolarmente importanti sostanzialmente nessuno sì cioè nel senso Mussolini era stato rapito però in un contesto bellico completamente diverso diciamo in un contesto chiamiamo l'ordinario è una cosa che non ha precedenti e però invece si inserisce in un contesto quello dell'Italia della seconda metà degli anni 70 in cui i rapimenti erano all'ordine del giorno cioè io faccio molta fatica a ricordarmi un caso di cronaca di un rapimento mi ricordo Soffiantini da piccolo però proprio c'è un nome e in quel momento lì c'erano altri quattro sequestri in corso e l'anno precedente ce ne erano stati più di 70 ci sono quartieri costruiti diciamo dai cosiddetti palazzinari grazie ai proventi dei sequestri persone abbienti straniere non venivano in vacanza in Italia perché avevano paura di essere rapite quindi c'è diciamo questa doppia che rende però particolarmente unica questa legenda di cui ci occupiamo e soprattutto la figura di Aldo Moro cioè chi rappresentava chi era Aldo Moro era veramente come ha detto prima Lorenzo probabilmente l'uomo politico più importante d'Italia da anni a quella parte non nel 1978 stiamo parlando di uno che faceva parte dell'assemblea dei 75 cioè quelli che hanno scritto materialmente la costituzione poi portavano gli articoli in assemblea e questo l'ha fatto prima dei 30 anni non mi viene in mente un uomo politico oggi con quel rilievo con quella importanza decisamente no anche perché le carriere durano però altra cosa che spesso a cui spesso non pensiamo perché noi facciamo la storia vedendo cosa è accaduto insomma il nome l'immagine la voce di Aldo Moro sarebbero probabilmente state insieme a quelle dei presidenti della repubblica se non fosse stato rapito perché Pertini lo dice nel suo discorso di insieme due mesi dopo pochi mesi dopo in realtà nella primavera del 78 sarebbe stato eletto il nuovo capo dello stato e Aldo Moro era probabilmente il nome più più probabile insomma sarebbe stata una storia molto diversa la nostra ma ci arriveremo e però dobbiamo tornare all'elemento delle due linee cioè la politica di fronte a questa situazione incredibile senza percenti si trova a dire che facciamo e qui vediamo un esempio della linea della fermezza che è incarnata appunto dal mondo comunista come da quello democristiano e qui vediamo Luciano Lama un pugno di terroristi provocatori non può avere ragione di un popolo di 56 milioni di cittadini coscenti non è possibile che questo accada dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo collaborare con le forze che sono destinate per statuto a difendere la democrazia e la libertà del nostro paese come forze dello Stato dobbiamo aprire gli occhi dobbiamo collaborare dobbiamo partecipare con impegno Aldo Moro in tutto questo in questi 55 giorni viene tenuto in un appartamento l'abbiamo visto prima in via Montalcini oggi è una casa ci vive una famiglia con due bambine questa è la piantina eccola lì il carcere del popolo come lo chiamavano nei comunicati i brigatisti dove c'è si è stato dove è stato svolto il processo su questo poi Francesco dopo ci dirà qualcosa ma quello che ci viene detto dalle verità giudiziarie è che per 55 giorni Aldo Moro è stato in quella sorta di intercapedine costruita ad hoc larga un metro fermiamoci un secondo proviamo a pensare a quanto è un metro io di profilo non credo di avere molta libertà d'azione in un metro per 55 giorni Aldo Moro è nel in questo appartamento al piano terra perché lo sappiamo i brigatisti cercavano di affittare volevano affittare tutti gli appartamenti al piano terra o al massimo al primo piano per poter scappare molto rapidamente ma in questi 55 giorni non ci sono solo la via della fermezza la via della trattativa il tentativo di trattativa incarnato da Bettino Craxi in buona sostanza che verrà poi anche ringraziato dalla famiglia di Moro per aver cercato di portare avanti una trattativa trattativa ecco qui dobbiamo essere precisi perché come dire viene chiamata linea della trattativa loro la chiamano linea umanitaria nel senso che no Farfara se vuoi dire anche tu diciamo i terroristi chiedevano la scarcerazione di prigionieri terroristi delle brigate rosse e quindi avrebbero voluto intavolare una trattativa mai nessuno direi nell'arco costituzionale ha detto ok mettiamoci a trattare quello che però fanno i socialisti no è dire qui la priorità non è la salvezza dello Stato qui la priorità è la salvezza di un uomo cioè di Aldo Moro ed è su questo filo anche filosofico in un certo senso che si consuma la rottura tra gran parte del mondo politico che diceva non ci si può mettere per nessun motivo a valutare atti umanitari o tantomeno trattative con i terroristi perché questo vorrebbe dire sacrificare l'integrità dello Stato e lo Stato disse Cossiga in una famosa intervista lo Stato vale più della vita di un single inoltre l'avrebbe detto anche Giulio Andreotti in diverse occasioni pensavano all'epoca a quale sarebbe stata la conseguenza se lo Stato avesse detto se la politica avesse detto con questi che hanno appena ucciso cinque carabinieri e poliziotti per strada noi ci mettiamo a trattare per salvare uno dei nostri questo disse Giulio Andreotti in un'intervista quindi c'era effettivamente anche il timore che sarebbe stato molto difficile a far digerire al paese e anche agli apparati dello Stato al mondo delle forze dell'ordine un percorso diverso da quello che invece l'ADC come il partito comunista scelgono di perseguire c'è da dire che anche i radicali erano invece con i socialisti sulla linea umanitaria che poi in cosa consisteva in una parola Francesco cosa diceva Crax sostanzialmente la risposta diciamo della linea umanitaria era scegliere non uno dei terroristi imprigionati indicati dalle brigate rosse ma una persona magari affetta da particolari patologie in un regime carcerario che la stava pregiudicando particolarmente in quel caso si poteva pensare a una forma di amnistia di grazia presidenziale c'è un'altra area politica non partitica che è quella del cosiddetto Nennè né con lo Stato né con le Brigate Rosse che rivestì in realtà poi una funzione fondamentale perché era l'area da cui veniva tutta la colonna romana e che tramite l'avvocato Giannino Guiso alcuni esponenti di spicco in modo particolare Lanfranco Pace fece sostanzialmente da tramite tra i vecchi compagni movimentisti quali erano per esempio Valerio Morucci Adriana Faranda e il mondo dell'estituzione diciamo che questo era lo spazio in cui si muoveva la risposta politica a questa a questa vicenda e c'è però come dire potremmo parlare veramente per ore c'è però un luogo una parola anzi che è diventata una parola chiave di questi 55 giorni perché diciamo a un certo punto accadono due cose che ruotano intorno alla parola gradoli vi chiederei di raccontarle la vedete lì sulla mappa via gradoli siamo al 19 non è l'unica mappa 18 di aprile quindi 18 di aprile succedono un po' di cose la cosa particolare che succede è che viene fuori c'è stata una seduta spiritica a cui ha partecipato anche a Bologna esatto perché è importante Bologna perché ci ha partecipato anche un assistente era già professore insomma Romano Prodi a questa seduta spiritica viene fuori durante questa seduta spiritica viene fuori il nome di Gradoli Gradoli no scusami guardavo lì non è qua ecco perché abbiamo messo due cartine perché c'è una via Gradoli a Roma e in via Gradoli a Roma c'era l'appartamento dove abitava Mario Moretti dove abitava Moretti e Barbara Balzerani ve lo facciamo vedere dopo piuttosto disordinato piuttosto incasinato c'erano anche una serie di uffici ma le forze dell'ordine e le istituzioni si concentrano sul paese di Gradoli che come potete vedere non è proprio vicino a Roma siamo in provincia di Viterbo quasi Toscana esatto siamo quasi più vicini a Grosseto e ovviamente a Gradoli non trovano niente una donna che non è una donna a caso ma è la moglie di Aldo Moro si chiede come mai nessuno si è andato a guardare in via Gradoli come mai non gli sia venuto in mente a nessuno lo facciamo raccontare a lei siamo sicuri che a Roma non ci sia una via Gradoli in cui sia più probabile che possa esserci qualche cosa e la risposta è stata adesso non ricordo di chi che sulle pagine gialle questo nome non risultava e andate via queste persone io sono andato a prendere il mio elenco telefonico e ho visto che questo nome c'era quindi diciamo un equivoco chiamiamolo così su Gradoli e via Gradoli è appunto un luogo significativo di questa storia perché è di fatto il covo delle Brigate Rosse che hanno rapito Aldo Moro il quale viene scoperto adesso lo vediamo di nuovo nella mappa questa è la mappa pubblicata sul Corriere della Sera credo è un'occasione quarantennale là sopra vedete estremità sopra via Gradoli 96 che succede cioè com'è che arrivano a scoprire questa via Gradoli 96 si allora c'era stata in precedenza una perquisizione da parte delle forze dell'ordine la questione di via Gradoli è particolare perché via Gradoli è una strada dove a logica un'organizzazione terroristica non dovrebbe mettere un cuovo perché sostanzialmente è a U per cui non ci sono vie di fuga cioè è sufficiente bloccarne due e nessuno può scappare fatto sta che vengono fatte poi delle perquisizioni aprono tutte le porte di questo stabile tranne una perché suonano e non risponde a nessuno vabbò ripassiamo che diciamo è il comportamento che ti aspetteresti in un cuovo gentile comunque molto e invece poi viene scoperto perché una doccia rimane aperta con il getto dell'acqua rivolto verso l'intercapedine diciamo verso il muro chiaramente si crea un'infiltrazione va al piano di sotto rinculino al piano di sotto avverte l'amministratore e questo poi insomma fa sì che alla fine si entri in questo appartamento esatto c'è l'amministratore avvisa i vigili del fuoco i vigili del fuoco aprono e vedono un cuovo del BR mitra volantini scena da film una scena da film e qui abbiamo dato una foto del perfettamente italiano beghe tra vicini scopriamo il cuovo esatto questa è una immagine è una foto sì no una cosa molto interessante in realtà è che fino alla scoperta del cuovo adesso ovviamente cioè questa situazione è talmente assurda che è un'altra di quelle cose che ha aperto molte teorie insomma però sicuramente è diciamo abbastanza significativo che se avete visto dove è via Grado lì quindi il posto in cui il capo della colonna romana cioè delle Brigade Rosse in realtà in generale Mario Moretti abitava abitato per un certo periodo e si recava tutti i giorni in via Camillo Montalcini una bella vasca diciamo a Roma insomma un bel viaggetto in una Roma e dall'estremità sopra della mappa all'estremità in una Roma blindata e si faceva questa strada ogni giorno avanti e indietro per andare poi nella cosiddetta prigione del popolo per gli interrogatori ecco diciamo una cosa prima di chiudere questa pagina che ovviamente potrebbe essere molto più lunga più completa ma il tempo è quello che è sulla prigionia con un altro episodio interessante che ha a che fare con un falso comunicato no? ha a che fare con un falso comunicato il comunicato numero 7 il comunicato numero 7 che diciamo inizialmente viene preso sul serio ma poi si capisce che c'è qualcosa che non va Francesco vuoi raccontare tu Lollo vai ma sì sostanzialmente esce fuori un comunicato delle BR dove si dice il corpo di Aldo Moro è nel lago della Duchessa che è un lago fuori di Roma mandano i sommozzatori per illustrare nel lago non si trova niente e poi qualcuno dice ma questo comunicato è effettivamente un po' diverso tipo Brigate Rosso è scritto a mano tutti gli altri scritto stampato preciso la carta diversa anche il linguaggio il linguaggio molto diverso molto corto mentre invece tutti gli altri comunicati sono corposi molto articolati rivendicazioni politiche non solo non solo di quello che stava succedendo in quei 55 giorni insomma un comunicato falso a cui le BR rispondono con un comunicato e con la famosa fotografia di Aldo Moro con in mano il giornale Repubblica del 19 di aprile per quello dicevo il 18 di aprile succedono un sacco di cose viene scoperto via Gradoli il comunicato falso questa fotografia con non riuscirete a vederlo però è quella con la prima pagina con moroassassinato punto interrogativo no no non ancora tristemente ma ecco quindi c'è questa vicenda nella vicenda questo mistero nel mistero peraltro adesso nel podcast lo raccontiamo si scopre poi che questo documento questo falso comunicato è stato fabbricato da un falsario della malavita Tony Kicchiarelli Tony Kicchiarelli il cui nome devo dire un film di Sorrentino no sembra davvero quello di un personaggio di un film personaggio legato alla banda della Magliana che torna in quasi tutte i peggiori incroci della nostra storia dobbiamo dirlo il quale tra l'altro morirà non molto tempo dopo se non sbaglio e quindi anche lì ci sembra chiedersi ma perché questo tizio fa un comunicato fasullo su Aldo Moro spedendo i sommozzatori al lago della duchessa chi lo sa chi lo sa mi concedi soltanto una veramente mini battuta in questi 55 giorni in quel metro in quella regione Aldo Moro scrive tantissimo e il mistero di questi 55 giorni continuerà nel più del decennio diciamo a seguire perché oltre alle tante lettere alla fine ne leggeremo una la più nota la più bella la più commovente Moro scrive anche un pezzo di storia d'Italia dal suo punto di vista ovviamente ci sarà insomma poi ci saranno molte discussioni il cosiddetto memoriale che è un punto fondamentale poi consiglieremo anche alcuni approfondimenti una parte piccola piccola di questo memoriale uscirà direttamente durante i quei 55 giorni indirizzata a un politico in particolare della democrazia cristiana Paolo Emilio Taviani e c'è una ragione per questo gli altri due le altre due parti del memoriale verranno rinvenute nell'ottobre del 78 e poi nel 1990 nello stesso appartamento di Milano in via Montenevoso e quindi parliamo però attenzione di alcuni momenti fondamentali perché dicevo che era importante Taviani quando nel 1990 quindi quando si scoprirà l'ultima parte del memoriale era il referente diretto nel territorio nazionale diciamo in Italia dell'operazione Stay Behind quindi il messaggio che le Brigate Rosse si diceva volessero far passare cioè dopo si è capito volessero far passare all'epoca ovviamente non lo sapeva nessuno era che Moro che era stato cinque volte Presidente del Consiglio Ministro degli Esteri conosceva molto bene le dinamiche internazionali potesse confessare parlare raccontare di quali erano quelle trame che le Brigate Rosse sembrava volessero parlare la cosa molto di cui volessero parlare la cosa molto interessante è che le SSBR che dicevano non si nasconde nulla al popolo in realtà di quel memoriale non hanno detto mai nulla a nessuno salvo quella paginetta e ancora nell'88 in un'intervista diciamo a tre con Curcio e Balserani molto famosa Moretti diceva già sappiamo tutto c'è solo da interpretare non ci sono memoriali e non ci sono bobine da scoprire e poi ovviamente si scopriranno sia memoriali che bobine di quei giorni e si arriva diciamo alla fine di questi 55 giorni tra speranze subito disattese tra segnali più o meno veritieri si arriva poi al 9 maggio del 1978 che è la fine della della prigionia di Aldo Moro che viene appunto assassinato dalle Brigate Rosse immaginatevi una cosa a cui ho pensato tante volte ripercorrendo la storia del caso More di Aldo Moro pensate a quest'uomo che come ricordava Francesco era stato il centro del potere politico nazionale sapeva chissà quante cose aveva trattato con tutti gli altri politici gli altri partiti aveva costruito alleanze costruito governi aveva gestito veramente il potere politico come pochi altri nella nostra storia che si ritrova per questi 55 giorni in quella o in un'altra ma comunque in una in una cella da solo e ha soltanto questo questa possibilità di scrivere di fatto in parte ai suoi colleghi e in parte ai suoi cari è veramente una vicenda anche umana molto molto forte e quindi arriviamo appunto al 9 maggio 1978 alla fine della della prigionia Roma è una città con un'urbanistica particolare fatta di strade enormi e piene di automobili che convivono con vicoli stretti dove se c'è una macchina parcheggiata quasi non ci passi più in una di queste stradine è andato in scena uno dei momenti più bui e tragici della nostra storia recente via Michelangelo Caetani che è in pieno centro di Roma pochi metri più in là c'è la frenesia di Largo Argentina e Piazza Venezia la Camera il Senato il Campidoglio in fondo c'è Via delle Botteghe Oscure dove c'è la sede del Partito Comunista Italiano se si cammina ancora un po' si arriva in Piazza del Gesù dove invece c'è la sede della democrazia cristiana via Caetani non è come avrete sentito dire spesso a metà strada tra la sede del PC e quella della DC ma è vicina a entrambe il 9 maggio 1978 è un martedì e in Via Caetani in quel martedì mattina c'è una Renault 4 rossa una delle macchine più diffuse all'epoca parcheggiata sul lato della via e Via Caetani come dicevamo appunto adesso questa stradina del centro di Roma tra sostanzialmente Piazza Venezia e il Ghetto è il teatro del ritrovamento del corpo di Aldo Moro la telefonata che abbiamo sentito all'inizio annunciava proprio proprio questo qui abbiamo le immagini del ritrovamento in sostanza un po' sgranate ma si capiscono bene ci sono grande folla di persone ci sono tra l'altro anche alcuni protagonisti della vicenda a un certo punto si intravede Francesco Cossiga che arriva in prossimità dell'auto sulla quale sulla quale si trova Aldo Moro e chi di voi è stato a Roma siamo molto vicini alla sede della Treccani siamo davanti al centro studio americani che è in un palazzo molto bello che è esattamente di fronte a dove viene lasciata la R4 e tra l'altro è interessante notare come anche lì la forza delle immagini ci abbia trasmesso soprattutto una visuale del ritrovamento che non è questa ma è presa dal lato opposto è presa dall'altra prospettiva ed è presa dall'alto ed è questa l'immagine forse più famosa di quel 9 maggio qui c'è la vicenda che nella puntata tra l'altro non raccontiamo perché non ci stava c'è la vicenda di come si arriva ad avere queste immagini di questo filmato e poi questa istantanea sostanzialmente per caso una televisione privata di Roma che scopre quello che tutto il paese sta per scoprire riesce a salire sul terrazzo di un palazzo dal lato giusto diciamo così prima che venga chiusa la strada che poi appunto come vedete sarà sbarrata e questo giornalista e operatore si arrampicano sostanzialmente dal terrazzo per riuscire a fotografare quel momento di storia assoluto nella sua tragicità queste sono immagini in Rai nemmeno la Rai aveva l'accesso in quel momento a Via Caetani esatto la Rai era di qua invece GBR questa piccola tv locale era dall'altro lato e le immagini più famose che abbiamo visto un attimo fa vengono proprio proprio da lì e naturalmente diciamo che la Rena 4 è lì a sinistra si intravede vedete una linea blu subito di sotto si è molto molto sgranata diciamo questa è presa per capirci da Via delle Botteghe Oscure se non sbaglio cioè dal lato diciamo nord mentre l'altra è presa dall'altra prospettiva e poi naturalmente questo momento questo momento è un momento che ha delle conseguenze delle conseguenze molto molto seri dopo la morte di Aldo Moro l'Italia sarà un paese diverso il PC abbandonerà la strategia del compromesso storico e del dialogo con la democrazia cristiana e si avverrà avvierà a un decennio di progressivo declino che culminerà con il suo scioglimento nel 1991 la DC si legherà al partito socialista di Craxi e ad altri partiti minori dando vita al famoso pentapartito perno del sistema politico italiano per tutti gli anni 80 ma quel 9 maggio 1978 segna davvero la fine di qualcosa in Italia la fine di che cosa Francesco la fine di una stagione politica l'abbiamo detto la fine del compromesso storico Marco Damilano nella puntata dice non è solo la fine di un'operazione politica ma è la fine di un sistema è la fine della repubblica fondata sui partiti e quest'immagine l'immagine del funerale è stata da molti interpretata come il funerale della repubblica della prima repubblica in sostanza no senz'altro così no ovviamente i partiti continueranno ad esistere ancora ancora per un po' poi verranno travolti chi è dal crollo del muro di Berlino chi è da Tangentopoli insomma il sistema cambierà come ben sapete e senz'altro è interessante vedere come morto il suo principale interlocutore finisce anche di fatto la principale linea politica del partito comunista che da quel momento si trova un po' con il diciamo l'eniniano interrogativo del che fare non c'era più di fatto la possibilità di proseguire quella linea di avvicinamento alla democrazia cristiana d'altra parte dopo che tutta la storia diciamo dalla svolta di Salerno in poi puntava verso l'avvicinamento alle stanze dei bottoni si chiude nella cosiddetta alternativa democratica alle elezioni politiche del 1979 le prime dopo da un lato il cosiddetto insomma diciamo trionfo del 76 in cui c'era sempre secondo partito ma con percentuali altissime comunque le prime dopo i 55 giorni per la prima volta il partito comunista perderà consenso e da lì inizierà diciamo un po' quel declino che invece corrisponderà all'ascesa elettoralmente comunque diciamo contenuta ma politicamente molto significativa di Bettino Craxi e appunto Berlinguer perderà il suo principale interlocutore poi tra l'altro anche Ugo Lamalfa che era diciamo con un ruolo più più ristretto ma era comunque un altro interlocutore se vuoi di Enrico Berlinguer e si aprirà una stagione molto diversa no il tutto tra parentesi mettendo tra parentesi l'Europeo dell'84 che però insomma sono una storia un po' e tra l'altro insomma appunto soprattutto Marco da Milano a lui abbiamo affidato nella puntata un po' questo raccordo lui dice una cosa che appunto abbiamo già un po' accennato cioè la morte di Moro è la fine della Repubblica dei partiti è la fine della prima Repubblica di tutto quel portato di ideologie appartenenze che oggi non conosciamo più ma che chi tra voi c'era in quegli anni può senz'altro ricordare e questo funerale no Lollo funerale celebrato in nella Basilica di San Giovanni in Laterano è un funerale assurdo da un certo punto di vista perché è un funerale di Stato senza con una barra senza il morto cioè una barra vuota perché perché la famiglia in particolare Eleonora Moro rifiutano i funerali di Stato che verranno i funerali di Aldo Moro verranno gli unici funerali di Stato sono quelli della scorta i funerali di Aldo Moro verranno celebrati in un paesino e lui verrà tumulato tra l'altro un anno dopo la morte perché il cimitero non era pronto la tomba non era pronta e verrà tumulato in una tomba di famiglia dove non c'è neanche il nome Moro sopra molto particolare Torrita Tiberina che è un posto dove avevano casa di campagna di fatto i Moro tra l'altro anche lì vicenda significativa Bettino Craxi uno dei pochi leader politici cioè essere accettati dalla famiglia proprio per la sua linea diciamo volta alla priorità della salvezza della vita di Moro e anche Aventore Fanfani non partecipò al funerale ma partecipò era poi presente all'arrivo del corteo era un altro dei pochissimi politici accettati appunto dalla famiglia Moro e insomma questo per dire è che non raccontiamo solo una vicenda quasi di un cold case per così dire ma raccontiamo una vicenda che ha avuto un impatto gigantesco sulla nostra storia e sulla nostra politica in questa vicenda enorme così fitta di episodi intrecci coincidenze indagini trame politiche da sembrare una serie televisiva non dobbiamo commettere un errore non dobbiamo dimenticarci che Aldo Moro è un politico ed è un uomo non dobbiamo dimenticarci che Aldo Moro non è stato solo il caso Moro le Brigate Rosse con il sequestro Moro hanno toccato il punto più alto della loro offensiva ma quei 55 giorni sono stati forse anche l'inizio della fine delle BR è vero negli anni successivi continueranno a uccidere a gambizzare a terrorizzare gli italiani poi però verranno decimate dagli arresti indebolite di fatto smantellate lo stato democratico messo in ginocchio in quei 55 giorni del 1978 alla fine avrà la meglio rimangono però le vittime di quella stagione uomini uccisi perché stavano facendo il loro dovere come l'avvocato Fulvio Croce come i giornalisti Carlo Casalegno e Walter Tobagi come l'operaio sindacalista Guido Rossa come carabinieri agenti di polizia e magistrati come Aldo Moro l'ultima lettera che scrive alla moglie Eleonora è la lettera di un condannato a morte dalla follia feroce del terrorismo ma è prima di tutto la lettera di un uomo piena di parole di bellezza di libertà e di vita mia dolcissima noretta dopo un momento di esilissimo ottimismo dovuto forse ad un mio equivoco circa quel che mi si veniva dicendo siamo ormai credo al momento conclusivo per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi il ricordo di tutti e di ciascuno un amore grande grande carico di ricordi apparentemente insignificanti e in realtà preziosi uniti nel mio ricordo vivete insieme mi parrà di essere tra voi per carità vivete in una unica casa anche Emma se è possibile e fate ricorso ai buoni e cari amici che ringrazierai tanto per le vostre esigenze bacia e carezza tutti per me volto per volto occhi per occhi capelli per capelli a ciascuno una mia immensa tenerezza che parza dalle tue mani si forte mia dolcissima in questa prova assurda e incomprensibile sono le vie del Signore ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto e a te e a tutti un caldissimo abbraccio impegno di un amore eterno vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo se ci fosse luce sarebbe bellissimo grazie 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 è stato complicato registrare questa parte nella puntata e anche leggerlo stasera è abbastanza duro insomma prima di salutarci vi vogliamo dare qualche consiglio di lettura di approfondimento perché siamo al circolo dei lettori e insomma è il luogo giusto in cui farlo tra le centinaia di pubblicazioni sì ci sono ovviamente una quantità sterminata di libri di articoli di documenti ne abbiamo immaginati cinque toccano un po' dei lati diversi allora Giorgio Galli Piombo Rosso che è un po' una storia della lotta armata no? sostanzialmente sì diciamo del partito armato cosiddetto e si concentra in modo particolare sulle BR è una storia raccontata in modo abbastanza lineare che appunto fa un po' quello che noi abbiamo provato a fare cioè dare i punti fermi le certezze poi diciamo ognuno può approfondire cosa preferisce approfondire poi c'è nello specifico sul caso Moro un libro di Miguel Gotor che è uno degli storici più diciamo considerati quando si parla di Moro del caso Moro il Memoriale della Repubblica che è diciamo la raccolta degli scritti di Moro dalla Prigionia c'è poi quello di Marco da Milano un atomo di verità l'abbiamo citato anche in puntata è stato il nostro ospite nella puntata grazie a questo libro grazie alla sua enorme esperienza di giornalista e sappiamo anche di testimone quasi di quello che avvenne il 16 marzo lui ce lo racconta nella puntata passò con lo scuolabus da quell'incrocio pochi minuti prima del 16 marzo o meglio il 16 marzo 78 pochi minuti prima delle delle nove e il titolo un atomo di verità si rifà a un estratto di una lettera di Moro che scriveva a Misasi un collega della democrazia cristiana e diceva adesso stavo cercando la citazione esatta ma lui diceva in sostanza eccolo qua dovrebbe essere cari amici c'è un rapporto aprite con la verità datemi un milione di voti e toglietemi un atomo di verità e io sarò comunque perdente da questo atomo di verità prende poi il nome il libro di Marco da Milano c'è poi un libro in generale sugli anni di piombo che ha scritto Gianni Oliva si chiama anni di piombo e di tritolo ed è edito da Mondadori di piombo e di tritolo perché noi abbiamo raccontato un pezzo ovviamente degli anni di piombo ma c'è tutto lo stragismo lo stragismo nero sostanzialmente che racconteremo tra un mese circa con una serata su un altro episodio piuttosto complicato la strage di Bologna ad aprile parleremo di quel 2 agosto 80 e a proposito di date l'ultimo titolo che consigliamo si 16 marzo 78 di Giovanni Bianconi la terza mi pare anche qui diciamo è un racconto più o meno di ciò che abbiamo di certo a partire ovviamente dalla verità giudiziaria e dalle verità raccontate dai protagonisti ottima base di partenza per approfondimenti e lì insomma poi ci addentreremmo veramente in decine se non in centinaia di pubblicazioni insomma 5 mi sembrano sufficienti se non volete ammalarvi anche voi esatto che dire noi vi ringraziamo moltissimo perché diciamo oggi anche per così dobbiamo dire un po' per senso civile civico è una data in cui è importante ricordare quello che è accaduto nel 1978 una cosa che diciamo nel podcast che mi colpisce ogni volta ma ogni anno è peggio è che quella era una democrazia giovane se vogliamo cioè dalla fine della seconda guerra mondiale al 16 marzo 78 è passato molto meno tempo che dal 16 marzo 78 a oggi e questo farà sentire male quelli di voi che c'erano nel 16 marzo 78 ma ci dà l'idea come dire di una di una vicenda che da un lato è molto lontana da noi ma che dall'altro lato non possiamo non conoscere per capire il paese che siamo e quindi grazie a voi perché ci avete fatto un regalo a essere così tanti e a voler ascoltare questa questa storia l'appuntamento 23? no no 19 io mercoledì 19 aprile sono stato preso in fallo mercoledì 19 aprile sempre alle 21 l'ultima puntata di questo ciclo per il quale ringraziamo moltissimo il circolo dei lettori di cui si fa l'Italia live parleremo della strage di Bologna 2 agosto 1980 il più terribile attentato della storia repubblicana probabilmente e quindi per chi vorrà l'appuntamento è al 19 aprile grazie a tutti grazie a tutti e anche agli amici di là e buona serata grazie